Mezzo milione di iscrizioni, duemila prodotti formativi, un milione di corsi. Sono questi i numeri messi insieme nel corso degli anni dalla piattaforma WebTrio, uno dei primi progetti in Europa finalizzati alla formazione a distanza che negli ultimi 12 mesi è stato oggetto di una riprogettazione logico-funzionale, il cui esito è stato presentato dall'assessore regionale Cristina Grieco e da Massimo Giacomelli, direttore tecnico di Trio. Oggi il portale, che conta attualmente 77.000 utenti attivi, si presenta completamente rinnovato sotto il profilo tecnologico e del web design e offre percorsi di navigazione più semplici e collegamenti diretti con le principali sezioni. Ma soprattutto con una rivisitazione di quelli che sono i contenuti tematici e un aggiornamento, quindi eliminati i contenuti ormai obsoleti perché purtroppo anche questo bisogna fare e soprattutto l'introduzione di tanti temi molto più attuali. Trio rappresenta quindi un'eccellenza nazionale e un fattore chiave nel sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e lavoro in Toscana.